In tutti i servizi di pronto soccorso della Regione Veneto è disponibile un video interpretariato che con l'ausilio di un apposito tablet permette di migliorare la comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti non udenti o ipoudenti. Viene utilizzata la LIS, la lingua italiana dei segni, e il servizio è attivabile fin dal primo contatto col personale di pretriage o di triage. Con l'occasione va ricordato che i reparti di pronto soccorso sono da usare responsabilmente perché è nell'interesse di tutti non affollarli inutilmente, lasciando che gli operatori siano in grado di dedicarsi compiutamente alle emergenze e alle urgenze reali.